è un crescendo sinfonico strepitoso quello del bolero di ravel e direi anche che perfettamente sincronizzato con il crescendo di questo film the grand bolero creando dei momenti pervasi dalla frenesia ma passione lussuria rivelazione e shock sia per i personaggi che per gli spettatori direi poi che anche un po sconvolgente scoprire che questo è il primo lungometraggio narrativo dello sceneggiatore regista gabriele fabbro che ha appena quanti 26 anni complimenti gabriele che bravo che sei e benvenuto ho voluto iniziare questo nostro purtroppo breve discorso con questo punto qui la musica del film hai riportato con il tuo magnifico the grand bolero a un film dove la musica ovviamente ha un ruolo importante essendo parte integrante della sceneggiatura impostando che ne so il tono l'atmosfera e forse anche narrando in una certa misura la storia non so quindi dimmi hai creato e scritto la tua storia attorno alla musica dell'organo in particolare per cui hai così ovviamente una grande passione o viceversa e cioè la musica ha arricchito la storia che volevi tu già raccontare si guarda io sono e l'ho detto sempre in interviste lo cerco di ricordare sempre io adoro quello che seggio leone e nio moricone stavano facendo negli anni 60 con il good and the bad and the ugly tutti i western e quello che seggio leone diceva a suo tempo era che il mio moricone era il suo migliore sceneggiatore io da quella frase lì ho praticamente basato tutti i miei studi perché secondo me cioè ci sono dei momenti dove non riesci a raccontare delle emozioni bene come fa la musica nel caso del bolero in otto visto che tu l'hai visto cerco sempre di partire prima dalla musica e poi scrivere una storia sulla base di quei temi dei quei di quei temi più che più che musica infatti il bolero c'è il tema del bolero io è stata la prima cosa che mi è venuta in mente e continuava venire in mente ogni volta che sentivo quella musica queste due donne con questa storia tumultuosa in quel momento esplodono e ogni volta che sentivo il bolero mi veniva sempre in mente la stessa la stessa musica e da lì poi tutta la storia sì sì bene bene ok raccontaci un po di questa tua chiamiamola ossessione per l'organo e per la musica classica a livello musicale sì perché appunto tutti i pezzi che che ho messo comunque sono molto se ci fossero qui compositori testimonierebbero non so se l'italiano così però sono molto meticoloso sulla musica perché oltre che al fatto che mi piacciono quei pezzi lì ogni pezzo veramente è come se mi dicesse la scena il montaggio la performance degli attori ed è una in quel momento io divento veramente un uno che trascrive quello che la musica dice voglio essere sicuro che in ogni film questa cosa passi quindi sono molto stubborn quando quando partiamo dalla musica il personaggio di roxanne in realtà la sua attitudine la sua ossessione viene in realtà da un da un organista che che ho conosciuto durante la pandemia quindi anche lui praticamente si muove e vive dentro questi organi enormi e si sposta da chiesa a chiesa riparandoli quindi è una una grandissima ossessione e sono rimasto folgorato da questa da questa persona perché era particolarissima e da quel momento subito detto c'è bisogna scrivere qualcosa deve essere fatto cavolo bello e il film oltre alla musica contiene poco dialogo eppure io direi che si racconta da solo tramite la musica e soprattutto la bravura degli attori quindi quanto sono stati fondamentali per te i tuoi attori raccontaci qualche cosa di loro magari beh le due attrici lì di ludovica sono sono bravissime e mi hanno molto anche aiutato non solo a livello di di recitazione che lì veramente lavorare con l'idia cosa devi dire ogni take portava sempre tirava sempre fuori qualcosa di nuovo ed era affascinante ed era affascinante da vedere però oltre all'aspetto recitativo erano molto in invested in the story cioè sul set mi parlavano guarda sta frase qua no facciamo facciamola così o proviamo questa cosa qua c'era tanto scambio anche a livello di sceneggiatura e c'è una grande strana dinamica tra le due tra queste due protagoniste c'è forse qualcosa in particolare che volevi rappresentare tu attraverso ecco questa loro relazione nel film in questa storia una delle cose che volevo raccontare che mi emozionava in prima persona era il cambiamento di roxanne che se uno ci pensa all'inizio è tutta dura e proprio forte no e si nasconde sempre e poi durante il film lei diventa una bambina praticamente si si scioglie per per questa ragazza questa giovane ragazza e invece la giovane la giovane donna e lei quella forte e come e come andando avanti senza prepotenza direi il film ci ricorda la pandemia attraverso il suono fin troppo frequente della campana a morto che suona paolo tramite i servizi televisivi in sottofondo la maschera avvolta all'orecchio di di roxanne questo proprio mi incuriosisce perché fare un film proprio in questo periodo ecco raccontaci l'esperienza magari del girare il film in circostanze tutt'altro che perfette girarlo è stato è stato abbastanza non so era giravamo con le maschere e tutta la crew e anche gli attori avevano le maschere quindi era non c'era più questa questo livello di finzione sembrava proprio che stessimo scusate girando un documentario praticamente però su questa cosa delle maschere io e idoli eravamo molto fermi su metterle nella sceneggiatura all'inizio non ce le avevamo poi abbiamo pensato che questa a in fin dei conti appunto la pandemia ha portato l'ossessione delle persone in primo piano siamo diventati super ossessionati dal dal toccarci c'era avevano paura di toccarci e questo secondo me idoli la sceneggiatrice avere le maschere sul set comunque la pandemia avrebbe anche aiutato a non far toccare le due ad allontanarle ancora di più quindi avevi questo senso di ossessione ancora più forte no perché non potevano toccarsi quindi eravamo molto molto fermi su questo volevamo raccontarlo e avrebbe aiutato la storia erano sicuri che avrebbe aiutato c'è da un certo punto di vista una gradita magari posso dire complessità in questa storia il film non non ci dà molta informazione sui retroscena di nessuno dei personaggi Roxanne rimane una presenza misteriosa fino alla fine arriva il questo questo uomo piccolino Hitchcock che ha fatto un po di cose un po di cose ogni film era una fetta di torta no quindi vedevi soltanto una piccola parte di un retroscena della madonna e con questo film ho cercato di fare quello senza parlare troppo di quello che è successo prima e quello che succede dopo vediamo soltanto questo piccolo time frame that's it interesting beh grazie Gabriele Fabro è stato un vero piacere I would certainly recommend everyone to see this film The Gran Bolero it's magnificent I find that it um uh it is like you said you mentioned Hitchcock it has a little bit of that old-fashioned and modern thriller sense uh kind of movie and it merits being seen it's an exotic dark film that reaches into the deepest recesses of uh our souls I suppose and uh allows us to question ourselves it's a wonderful film uh done by a very very talented young man that I hope will come to visit us in uh in Toronto bravo Gabriele chapeau 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 Gabriele chapeau